sono appena tornata dalle Paralimpiadi di Parigi e sono arrivata settima e è stata una delle esperienze più belle della mia vita sono ancora molto emozionata e per questo ci tenevo a ringraziare il comune di Sanremo e tutti i suoi cittadini perché ho sentito tantissimo il vostro sostegno ed è stato fondamentale quindi mi avete fatto impazzire il telefono ed è stato veramente bello regalarvi queste emozioni